Gela alla città metropolitana di Catania. Si parla tanto dell'emigrazione nell'area etnea, ma oggi, giovedì sottobre, di concreto c'è poco o nulla. A maggior ragione, dopo la decisione assunta qualche tempo addietro dall'Assemblea regionale siciliana, che ha bocciato i decreti legge che dovevano solo formalizzare il passaggio territoriale della città del Golfo, di Piazza Merina e di Niscemi. Sulla vicenda oggi è intervenuto il segretario cittadino di Fratelli d'Italia, Alleanza Nazionale Gaetano Minardi. Il passaggio alla città metropolitana di Catania, di Geminardi, è importante e porterà numerosi vantaggi. Noi siamo fermamente convinti che l'adesione alla città metropolitana possa essere un elemento di sviluppo per il nostro territorio. C'è molto poco in giro. Siamo stati ingannati e illusi da quelli che sono i politicanti di turno, i quali hanno promesso mari e monti, hanno promesso sviluppo, hanno promesso porti, aeroporti, hanno promesso riconversioni della raffineria, ma a oggi nulla e niente di tutto questo. Quindi riteniamo che l'adesione a Catania, che certamente è una città molto più economicamente diversa dalla realtà nissena, possa rappresentare un elemento di sviluppo per le nostre popolazioni. Certo, poi dipende dai rappresentanti che Gela riesce ad avere e quello che riescono a contare in un contesto come la città metropolitana di Catania. Gela ha speso quasi 200 mila euro per promuovere il referendum popolare del 2014. In tanti hanno detto sì all'emigrazione da Caltanissetta. Da allora ad oggi però non è cambiato nulla. I nostri deputati o i nostri rappresentanti nei vari parlamenti dovrebbero essere quantomeno rispettosi di quella che è la volontà popolare, se no rischiamo di valere quanto il 2 di coppe. Già contiamo poco per questi signori, ma se non tengono conto nemmeno di un referendum popolare andiamo proprio male. Il segretario di Fratelli d'Italia Alleanza Nazionale si rivolge direttamente all'amministrazione comunale. Noi dobbiamo capire l'amministrazione comunale se è d'accordo e mi pare che Messinese e la sua giunta sono concordi a questa adesione di progetto all'area metropolitana, di conseguenza devono aspettare tutti gli atti inerenti a questa richiesta.